Ascolti TV ieri, il Re Leone VIP, chi l'ha spuntata? Tutti dati. Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 2 gennaio 2023. Il Re Leone, Rai 1, raggiunge 3 milioni di utenti e il 16,5% di share. Un dato che gli vale la sufficienza. Fa meglio il GF VIP 7, canale 5, che, con la solita diretta Monster, intrattiene 2.95 milioni di spettatori e fa registrare uno share pari al 21,9%. Rispetto a una settimana fa signorini e co incrementano il proprio pubblico di ben 500.000 utenti. Segno che il reality show, sul fronte ascolti, gode di ottima salute. Bene report, Rai 3. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 2 gennaio 2023. I soliti ignoti e l'eredità nettamente avanti rispetto a canale 5 e oltre i 4 milioni di utenti.